Vendita Milan a Redbird, indaga la procura, da parte della Guardia di Finanza. Milano il nucleo speciale di polizia valutaria della GDF sta effettuando acquisizioni nell'ambito di un'inchiesta con al centro la vendita del Milan dal fondo Elieta Redbird di Igeri Cardinale dell'agosto scorso. Indagine che più nello specifico parte da un esposto dell'ex socio di minoranza nella gestione del club. La lussemburghese Bloschie. Esposto sulla vicenda di un pegno già contestata anche in altre sedi. Il fascicolo del PM di Milano Giovanni Polizzi e dell'aggiunto Maurizio Romanelli al momento è a carico di ignoti e ipotizza una presunta appropriazione indebita. Virgola.